Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV ci avviciniamo a Lazio Inter scaricate l'app numero 10 dal link in descrizione poi più avanti finalmente credo che potremo parlare dei premi sempre che l'abbiate scaricata o la scarichiate dal link in descrizione su questo video e poi vi ricordo la live chat dopo i sorteggi di Champions League e prima di Lazio Inter quindi giovedì alle ore 19 farò l'impossibile per essere con voi per sentire come la pensate intanto devo dire mi dividerò in questo video editoriale tra la questione difensore e la questione fair play che come sempre agita qualcuno allora cominciamo dal difensore la risposta io credo che anche i più gnocchi quelli che passano e spendono il loro tempo a insultare l'arrivo assolutamente presunto di acerbi abbiano finalmente compreso dalle dichiarazioni di Federico Pastorello che è stato in sede all'Inter che l'Inter ha altre piste prima di acerbi e in particolare siccome vedo impossibile onestamente per i costi la pista a cangi col Borussia Dortmund Manuela Cangi beh resta solo una pista che è quella che porta a Trevor Chalobah dal Chelsea sì dal solito Chelsea notizia delle ultime ore il Chelsea avrebbe aperto addirittura il prestito senza particolari formule vorrebbe però un minimo indennizzo per questa stagione 3 milioni di euro poi vediamo il diritto accettano tutto lo abbiamo visto come con Casadei come con Lukaku ma almeno un minimo indennizzo lo vorrebbero l'Inter sta cercando di non pagare neanche il minimo indennizzo di averlo praticamente in prestito gratuito da seguire anche la situazione Chelsea Leicester per Fofanà perché in caso di ufficializzazione di Fofanà è chiaro che Chalobah potrebbe venire all'Inter il giocatore è d'accordo si tratta ovviamente sarebbe Chalobah a zero ragazzi non so se mi spiego quindi prima di inveire contro acerbi ecco stiamo belli tranquilli con questi polpastrelli belli tranquilli e vediamo come va a finire perché a Pastorello procuratore già di Lukaku in lite con Lukaku ve lo ricordate no? L'anno scorso lo portò al Chelsea poi Lukaku per tornare all'Inter si è affidato all'avvocato Sebastian Ledura anche questa è una cosa tra Pastorello e Lukaku che verrà chiarita ma insomma Pastorello che è l'agente di Acerbi è stato molto onesto a sua volta dicendo no no ma l'Inter è stata molto onesta con me ha detto Acerbi è un'opzione da ultimi giorni di mercato perché hanno altre idee e l'idea ripeto al di là di Akanji è Chalobah quindi prima di insultare di inveire di farsi conoscere di distinguersi sempre per maleducazione dimostrandosi appartenenti a quella che Mourinho ha chiamato la real scan la big scan la grande feccia cerchiamo di stare tranquilli ragazzi anche perché onestamente ve l'ho sempre detto che Acerbi era l'unica e l'ultima opzione l'unica spero di no a parametro zero a zero ma l'Inter ha altre idee l'ha confermato allo stesso procuratore di Acerbi quindi perché vi dovete incazzare aspettiamo un attimo senza contare adesso mi fate prendere le parti di Acerbi insultato vergognosamente per un fotogramma in cui qualcuno intravede un ghigno di soddisfazione io ci intravedo solo frustrazioni uno che comunque ha fatto l'europeo è campione d'Europa ha giocato tre partite una da titolare ha fatto l'assist a Pessina per il 2 a 0 in Italia Austria partita è stata terminata 2 a 1 e me lo paragonano con tutto rispetto ragazzi perché va bene sarà anche uno di noi Aranocchia sì va bene è quella l'età ma francamente parliamo di uno che magari è ancora nel giro della nazionale per quanto ne sappiamo lo è stato fino all'anno scorso è campione d'Europa con delle presenze perché se qui il giochino è ma se è interista vale tutto allora uno prende Radu perché è interista e magari manda via Scesni un domani che è molto più bravo perché non ha una storia interista ragazzi basta con queste cretinate veramente ve lo chiedo per favore basta con queste cretinate il dissenso è assolutamente legittimo il mio preferito l'ho detto 100 volte è Shalobah o Akanji non certo Acerbi ma un conto è esprimere civilmente il proprio dissenso un conto è fare il socio all'animale capace solo di insultare io con questa gente non voglio avere nulla a che fare e non ci voglio parlare quindi ragazzi incrociamo le dita perché se riusciamo a tenere tutti i nostri come sembra sapete che io aspetto sempre il gong del primo settembre e alla fine al di là di Perisic è andato via per un'offerta onestamente alla sua età irrinunciabile se riusciamo veramente a sostituire alla fine Sanchez con Lukaku e ad avere anche come vice devrai che poi può fare anche altri ruoli Shalobah che ha già esperienza di Champions ha già fatto un gol alla Juventus classe 99 è giovane ragazzi dobbiamo soltanto essere contenti e felici tema fair play ci risiamo dopo il calcio distrutto dal covid e non solo il calcio il signor Seferin con tutte le figuracce che ha fatto l'UEFA che ancora non ha punito il City per chiare per chiare e documentate violazioni addirittura del 2015 ma poi non sono andati avanti a cercare ci avevano detto che il City non avrebbe dovuto fare le coppe per due anni come al solito si rifanno vivi quelli del fair play finanziario 2.0 per dire che Juventus, Roma, Inter e Milan in modo diverso quattro società italiane ma c'è anche Lars nel Barcellona e quindi sono tranquillo non hanno temperato agli obblighi di fair play va bene date le vostre sanzioni riducete di un uomo date le vostre sanzioni 5 milioni di euro riducete di un uomo alle liste Champions ma onestamente uomini dell'UEFA posso dirvi fate veramente ridere perché la vera battaglia sarebbe da fare sarebbe quella di contenere una volta per tutte mi rendo che non mi rendo conto che non è facile le competenze le commissioni astruse assurde dei procuratori che tolgono soldi dal calcio non a differenza di tutte le società in un momento difficilissimo provano comunque a metterli è incredibile è incredibile l'UEFA aveva detto fuori per superlega per tentativo di superlega Juventus Barcellona Real Madrid fuori fuori il Manchester City per aver violato dichiaratamente il primo fair play finanziario con Anna non fare le coppe per due anni non è successo niente anzi cercano di mettere il becco nella nuova superlega che arriverà cercano di patrocinarla loro posso dire è veramente vergognoso questo atteggiamento poi lo sappiamo tutti voglio vedere se puniranno Arsenal Barcellona e anche nomi molto importanti no guai a toccare il City guai a toccare il il Paris Saint Germain e uno mi dice beh ma una volta al Chelsea hanno bloccato il mercato non fu l'UEFA fu la FIFA ben diverso per 29 trasferimenti di minorenni che mi sembra onestamente un riatuccio un po più grave e comunque neanche lì il Chelsea fu estremesso dalle coppe neanche lì si gli bloccarono il mercato ma sapete che il Chelsea dopo Lukaku Casadei e Chalobah scusate ma io il Chelsea l'onoro e l'onorerò sempre ci vediamo in live chat ragazzi è giovedì alle 19 parleremo di questi temi i gironi di Champions la vigilia di Lazio Inter partita vera vi aspetto numerosissimi ciao ragazzi e viva l'Inter il fair play adesso ma vada via il Cuba